benvenuti o bentornati su abbraccio con fulvio venanzini per una nuova puntata del podcast satirico estemporaneo autobiografico ma soprattutto polemico io sono fulvio venanzini e vi auguro buon ascolto eccoci qua cari amici amiche conoscenti con il nuovo appuntamento della settimana con la polemica come ogni martedì come va come la va io sono reduce da questo ennesimo concorso in cui non ho vinto finale della stavolta storia del finale a volte io soltanto arriva in semifinale stavolta storia finale ma non ho vinto lo stesso e infatti inizio a pensare che io non sono adatto ai concorsi perché la mia comicità comunque sempre più divisiva del degli altri negli altri tipi di comicità che solitamente si trovano in gara quindi boh che io voglia o no sono sempre un po più divisivo e il mio approccio è sempre un po più satirico e questi festival prediligono la comicità più generalista più cabarettistica e vabbè comunque detto questo poi è stato divertente che mi sono pure inimicato un giudice senza volerlo perché parlavo con uno signore e questo ha cominciato a dire ma io perché non sopporto quelli che dicano a firenze dicono dicano no dicono stand a comedy io fo stand a comedy ma che stand a comedy la stand a comedy non non esisti ma dico beh dico per distinguerla dal cabaret che è un po più per famiglia non è vero ma ha mangiato ha cominciato a sbraità non è vero perché di qua perché benigni di sopra insomma quello che sa quelli che capiscono molto loro no che se tu dici una cosa loro te parlano sopra manco ti ascoltano ogni come dire una poca due sono troppe quindi non capiva tutto lui allora mi sono zittato però ho scoperto che poi era un giudice quindi non sono partito molto bene però sti cazzi insomma e cioè qui ormai ci sono ste fazioni ci sono sti comici un po boomer mi permetto di dire un po tromboni che pensano di capire tutto loro loro detengono la verità e non sopportano il nuovo non sopportano una nuova corrente di comici che si sono diciamo auto nominati autodefiniti stand up comedian ci tengono a ribadire la loro diversità da dal vecchio cabaret italiano come mi sembra ovvio no però a questi da fastidio a molti da fastidio perché poi hanno portato via al mercato adesso cabaret non c'è più oggi cabaret è una parola in disuso i giovani che iniziano iniziano a fare stand up iniziano a fagli open mic non ci sono più i laboratori di cabaret diciamo quello che prima era laboratori cabaret è diventato laboratori di stand up ci sono tutti adattati a questo nuovo chiamiamolo linguaggio secondo me nuovo approccio più moderno no è più anglosassone non ci so cazzi perché io vorrei dirgli a questi ok mettila come te pare mettila sul fatto che prima c'era anche il comico satirico alla benigni oppure questo e quell'altro monologhista vabbè ma se tu oggi prendi un cabaretista no classico lo metti in una sera di stand up la gente cringia ecco già che dici cringia perché diciamo cringia quando è stato tanto bella la lingua italiana no in italiano cringe non si può di io per anni mi sono ho usato questo questa espressione cioè ho ho espresso questa sensazione ma senza avere la parola perché dico mazza che imbarazzo che mi ha messo che imbarazzo oggi c'è cringe oggi tutti la tutti lo usano prima non c'era e dovevamo parlare di questa sensazione vaga però non ci capivamo beh oggi c'è sta parola tu netta cringe tutti sanno che vuol di in un attimo con una parola in più esprimi un concetto in più e descrivi in realtà in modo più particolare giallo quindi mi sembra pure lì chiudersi al nuovo ecco per tornare al discorso se tu prendi un cabarettista classico lo metti una sera di stand up probabilmente la gente cringia probabilmente la gente non ride a meno che non è bravissimo perché l'approccio è vecchio anacronistico desueto le battute spesso sono un po' telefonate è cabaret se tu al stesso tempo prendi un comedian che poi comedian perché devo di comedian un comico diciamo comico stand up e lo metti una serata di cabaret quello potrebbe far ride come no capito potrebbe anche generare il gelo quindi cambia l'approccio cambia il pubblico e questo influisce sul risultato finale quindi a voglia di no è la stessa cosa no perché c'è sempre stato la stand up comedy e c'è il cabaret è uguale alla stand up comedy la differenza c'è tutti lo conosciamo la differenza tutti sappiamo la differenza tra luisi gay e maurizio battista però facciamo finta che non ci sia che poi è base su uno che non gliene frega un cazzo c'è a me delle etichette dello status symbol della stand up non me ne frega una sega cioè per me un comico deve far ride in modo non becero originale siccome la stand up comedy questo me lo offre spesso e non sempre specialmente in italia dove adesso è tutto appiattito e adesso vedi i famosi comici che si dicono comedian stand up stand up per bla 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 e poi rifanno le battute del battista fanno le battute del merda giochi di parole oppure fanno il crowd work che però diventa ciao come te chiami che lavoro fai ma vuoi stare insieme mi scopate stasera scoprirete ecco ecco quello per me è monnezza è un modo becero uno scorciatoio a becera per piano risata ma questo l'ho già detto mille volte purtroppo la fanno anche in america in modo un pochetto più sofisticato magari ma siamo lì però questo fa parte della stand up comedy ma non è solo quello ci sono mille modi di interpretare sia il monologo che il crowd work ma io ormai sull'ovvio non mi metto più a discutere cioè io se uno vuole capire capisce cerco un terreno comune per chiudere la questione in poco tempo io dico ok c'è ragione su questo l'ho messo come te su questo su quella non metto a discutere tanto lo capisci subito se la gente non vuole capire non vuole discutere vuole avere ragione per forza non cambierà idea perché se uno c'è un'idea preconcetta tu gli puoi mettere avanti pure 2000 prove fattuali quello continua così no io poi so pure molto estremo cioè io dico per me quello è il comico il resto oggi non dovrebbe manco esserci c'è quella comicità da da sagra per famiglie banale beh c'era io proprio l'abolirei però ci deve essere non è un reato a me non piace però per me il comico è quello lì che facciamo noi quello che si chiama stand up comedy che poi può essere un po più pop un po più black un po più blu satirica come cazzo le pare però è quella la comicità adulta per adulti non giochi di parole per bambini battute sulla social del cazzo ma oggi abbiamo sostituito nella stand up comedy italiana purtroppo l'aeroporti le vacanze low cost la suocera al suo mercato con la moglie con tinder preti pedofili e altre due cose stra abusate quindi la stand up comedy si accaba si sta cabarettizzando perché usa sempre gli stessi luoghi comuni padre pio e l'handicappati e preti pedofili sicuro tinder non manca mai ha rotto le palle vabbè pompini schifezze varie che non posso non possono mancare ma poi non è certamente il l'argomento che fa differenza ma come tu lo svisci di come tu lo affronti però che palle costo tinder basta che palle poi c'è la gente che si autorefinisce cabaret e fa pezzi divertenti magari pure intelligenti no e c'è gente che fa se dice stand up comedian e fa roba mediocre banale quindi su questo sto d'accordo andiamo oltre le divisioni oltre le parole oltre le autodenominazioni diamo la sostanza su quello sto d'accordo però non possiamo negare che che la comicità mainstream anglosassone sia diversa dalla comicità mainstream italiana che ancora molto arretrata ma vabbè ma il vero problema è passato il ritorno cioè l'incubo di domenica a roma alla stazione di burtina con lo sciopero generale dei dei treni manca a farla apposta ho parlato nella puntata precedente di quanto ultimamente trenitalia è inaffidabile disastrosa forse anche grazie a salvini per colpa salvini arrivo a roma e domenica me trovo nella merda più totale io non sapevo un cazzo non avevo guardato i cosi il tg non sapevo niente c'era lo sciopero generale cui hanno aderito praticamente tutti quindi tre quarti dei treni cancellati e siccome era domenica tra l'italia non ti garantisce manco delle corse base capito non ti garantisce un cazzo ci hanno proprio detto dicono domenica non garantiamo nulla a ottimo buccio del culo capito quindi poi adima c'entra il pullman sostitutivo perché dove arriva orte c'è una macchina orte c'eva la mezz'ora col treno però se non c'è il treno un po' difficile il pullman sostitutivo non c'è ma la la sentì ti sbattono da dalla parte all'altra vai di là va di sopra vai sotto alla fine pullman non c'erano neanche della cotral insomma non c'era modo di arrivare a orte allora io ho cominciato a bestemmiare niente vedevo qualche treno dico Mario riesco arriva a viterbo comunque già sarebbe qualcosa però io doveva orte e vedevo puntavo su un treno tipo cavallo poi lo cancellava poi il prossimo e lo cancellava perché poi all'ultimo momento li cancellava capito non è che diceva tutto cancellato no no alcuni te li presentano crede tu stavi là aspettavi ok questo va a firenze parte alle 10 e 38 tu stai là contento alle 10 e 34 5 minuti di ritardo oh bello bello 10 e 36 cancellato e tu e lì la gente che bestemmiava qualcuno andava in brutti direttamente a all'ufficio informazioni alla biglietteria perché diceva come io ho fatto la nottata so ho lavorato devo tornare a casa non posso tornare a casa ma quello sciopero questo gli scioperi servono per per creare per creare scompiglio sì ho capito ma vaffanculo te stai a creare scompiglio sulle spalle mie come se la domenica sticassi siamo tutti in vacanza c'è gente che adesso a parte io c'è gente che la domenica ha lavorato ha fatto la nottata operai e cose varie che erano lì nella merda tanta gente si è ritrovata così spaisata perché non mai sono sciopero così è tutto che tutto cancellato e una volta anch'io do e una volta solleva la gente in vacanza troppa gente o ma queste ferrovie levate levate le dice e poi quella lì a biglietteria dice no ma che a dirlo di la salvini lamentatevi con salvini lamentatevi col ministero perché la domenica non ci sono corse garantite no anche durante gli scioperi e la gente che salvini questa tutta gente del pd che non vuole la meloni pure lì insomma sarà politicizzata la situazione che ma sicuramente c'è questo sto sciopero sarà c'era una una matrice anche politica io non lo so perché perché se lamentano così tanto questi macchinisti e cose varie che mi sembra che guadagnino abbastanza non mi sembra che siano i lavoratori messi peggio in italia fatto sta che sono rimasto svariate ore là ero pure stanco e come sono bastati poi arriva pure la polizia a controllarti i documenti cioè tu stai lì a mangiare un pezzo di pizza seduto incazzato sudato affranto ti vedono palesemente un ragazzo uomo diciamo io e altri con lo zaino tranquillo che sta lì documenti mi faccia i documenti perché no perché tu non fai i controlli a campione io ce l'ho sempre nel suo campione come mai ce l'ho sempre una volta c'è la barba troppo lunga e sembra un terrorista un'altra oggi cioè domenica comunque rientravano in questo campione pure lì no ma quello fanno il loro lavoro ma proprio in quel momento c'è una crisi totale gente disperata blocco totale tu mi vieni pure a chiedere a chiedere documenti proprio per accanimento a mo menateci pure cioè ti fanno pure sentire una merda documenti che stai a fare barbone hai perso il treno sei in barbone documenti questa cosa poi desventare gli attacchi terroristici così controllando documenti a gente a caso proprio è ridicola mi sembra proprio ridicola e fanno il loro lavoro vabbè mi sembrava un lavoro un po inutile chiare i documenti a me un'altra volta me mi chiedono spesso i documenti è boh un'altra volta stavo a termini in fila ci saranno state aspettavamo pure lì stavamo seduti per terra comunque eravamo 40 persone in fila ero vestito non normale però c'è forse capelli lunghi la barba un po più lunga vabbè io ho la sfortuna dei capelli più chiari della barba c'è la barba più scura solente la barba più chiara io c'ho la barba più scura o questi sono arrivati in mezzo a 40 persone di tutte le nazionalità a me hanno pescato documenti così documenti per carità e poi interminano bene documenti grazie rivederci però tanto di un lì a domenica si poteva pure vita no visto che era una situazione già drammatica per noi viaggiatori poi capito a termini se abbandonata sia una termina tiburtina dentro la stazione che per carità l'hanno rimesso a nuovo tutta bella perché la ma sempre abbandonata stesso nel senso manco il telefono manco di fanno ricarica il telefono di installi va sbagliate ore dice ma non dice deve andare giustamente in qualche ristorante bar mcdonald dice vabbè vai vai sulla piatineria e ricarichi il telefono ci stanno le prese vado la vedo le prese usb perfetto vabbè va pio un caffè anche perché ho già mangiato cioè ho già fatto colazione prima tutto tranquillo di adesso prendo il treno parto no da lì mi aspettava un'epopea pio sto caffè mi dirigo al tavolinetto dove c'erano le prese e scopro che tutte le prese erano rotte nessuna funzionava quindi di porca vabbè vado là dico scusa alla barista dico non è che potresti farmi ricaricare il telefono un attimo perché sono rimasto qui col treno cancellato 20 per cento che dalla notte prima che usavo insomma dalla sera prima dice no tesoro mi dispiace caro ma non possiamo prendere oggetti da fuori c'è il capo il caponegozio dico vabbè ma cinque minuti no non si può ma sarò io che non tu allora se me lo freghi non ti denunciò tranquilla niente vabbè non me l'hanno niente la dico se vado a mcdonald e lì senza consumare me l'hanno fatto ricaricare grazie alle multinazionali vedi bisogna ringraziare le multinazionali e sono anche andato al bagno entrando questo è illegale questo potrebbero arrestarmi dico sta cosa però vabbè c'era uno che entrava io ho detto ma se mandava perché il mcdonald non ci andava da boh da anni dico posso si può andare al bagno in inglese perché questo si si va tranquillo ha aperto io sono entrato con lui ma chiaramente si entrava con lo scontrino che io non c'avevo quindi ho pisciato mi sono lavato le mani e mamma mia come un barbone proprio sembravo tra un po sembravo cosa tom hanks su collaterale su the terminal quando rimane chiuso dentro il gfk di new york no perché non c'ha perché nel frattempo perché nel frattempo era partito da questo stato immaginario dell'ex unione sovietica mi sembra comunque va bene dell'est europa sono merito dove cazzo stava che però nel frattempo c'è stato colpo di stato e quindi lui non c'era governo e lui non poteva uscire dall'aeroporto e quindi è rimasto lì a vive che per una storia vera vabbè tipo un mese dentro stare poi tra un po già mi vedevo dentro dentro la stazione di burtina come un barbone poi mi si è accollato pure un tizio raga classico balordo cocainomane che però sapeva tutto le treni sapeva tutto mi spiegava sta lì parlava a rotazione ora sto tornando fra te sto tornando in parte tranquillo va fratello guarda lo so io lo so lo piglio sempre insomma mi ha fatto una capoccia diceva cose assurde però nel mezzo ci metteva anche cose informazioni sensate però sbraitava urlava pazzo poi che è successo ah già israele così per non fosse mancare niente ha bombardato pure l'italia no non l'italia proprio eh basi italiane in libano capito ormai proprio vedi dice che devono fare di più ecco dove attacchi all'unifil danneggiata una base italiana meloni inaccettabile muri nella nostra posizione ONU sono caduti quando un caterpillar dell'IDF ha colpito il perimetro in un altro episodio d'ho feriti due militari cingalesi israele i soldati hanno sparato verso una minaccia te pareva loro sparano sempre verso le minacce e proprio mentre si giocava eh la finale italia israele capito 4 a 1 per gli azzurri quindi sono pure incazzati che li hanno battuti a calcio insomma momento di tensione tra eh il governo italiano e quello israeliano no perché mo la meloni dopo questo attacco ha detto che è inammissibile inaccettabile ah mo inaccettabile finchè israele bombardava tutto il medio oriente bambini sterminati quello va bene siamo qui israele tutti lì eh in sinagoga tutti a fare la cagnolina di netaniao appena toccano i cazzi tuoi nostri diciamo però lì ah non è inaccettabile ma come prima andava bene quello che faceva israele ma non va più bene cioè vedi l'ipocrisia di questi è qualcosa di pienoso ecco eh la Presidente del Consiglio riferisce Palazzo Kicci in una nota ha avuto una conversazione telefonica col primo ministro israeliano bla 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 ha ribadito l'inaccettabilità che unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane eh eee si 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 riducono in un impegno in questo senso eh vabbè ha sottolineato l'assurda necessità che la sicurezza del personale di unifil sia sempre garantita israele farà tutto il possibile per impedire che l'unifil subisca vittime e vabbè però se succede che fammica vorrei essere antisemita cara Meloni no? Tu che forse sei stato anche definito antisemita tanto tempo fa ma ormai non sei più antisemita no? Intanto noi continuiamo a vendere le armi a Israele con le quali poi alla fine colpiscono pure versagli italiani è meraviglioso capito? Ma però la Meloni andrà in Libano e insomma se ha fatto la voce grossa con il Daniao vediamo se prima o poi cambierà qualcosa ma io non penso proprio tra l'altro è circolato su X un'immagine dello stadio dove si giocava Italia Israele con un mega striscione che ho scritto ricordiamoci degli ostaggi no? Degli ostaggi israeliani insomma imprigionati da Hamas ma è venuto fuori che un fotomontaggio cioè una cosa patetica di propaganda sionista mamma mia ma come pensi di passare la liscia con ste poracciate che poi ti sgamano cioè qui l'immagine di Israele ormai è sempre più danneggiata se stanno proprio a distruggere l'immagine da soli con tutte ste porcate che stanno a fare cioè sono loro le prime cause dell'antisemitismo oggi cioè non gli israeliani tutti gli israeliani o gli ebrei ma il governo di Netanyahu i sionisti e chi in Italia li sostiene a sparatratta dicendo che comunque loro hanno sempre ragione perché questa roba che ormai voglio dire mi sembra nel mondo sono tantissimi gli stati che riconoscono lo stato di Palestina l'Italia no però voglio dire ormai tutta sta popolarità che avevano acquistato non ce l'hanno più no che avevano acquisito adesso sono impopolalissimi cioè loro lì che dovrebbe essere il regno del dio la terra promessa dovrebbero sta bene in pace dopo l'olocausto sono continuamente minacciati cioè i primi a soffrire questa situazione sono loro se vogliamo no certi palestinesi soffrono di più però loro vivere lì così che cazzo di vita è tutti te odiano fai ste porcherie bombardi tutti ce l'hai con tutti i stati minacciati da tutti e in più fanno fotomontaggi di propaganda che tutti sgamano e fanno la figura del cazzo continuate così non mi sembra la strada per la pace e per la salvezza intanto sempre parlando di questo fantastico governo sono stati messi in funzione i famosi centri di detenzione per migranti italiani in Albania cioè di migranti che vengono in Italia in Albania deportati in Albania praticamente in dei lager cioè io ho visto le foto so praticamente dei cazzo dei lager e hanno usato una nave della marina cioè hanno smosso una nave della marina militare per portare 16 cazzo di migranti in questo centro d'accoglienza che è palesemente un lager non so come chiamarlo poi là dentro non si sa che ci possono stare mi sembra 25 giorni tutta una stronzata di soldi buttati per far contenta la Meloni cioè per far contenta il suo elettorato vedete noi non ve li mettiamo qui eh sti brutti ceffi gente disperata che fugge da torture guerre bla 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 le portano in Albania noi li portiamo là eh così allontani il problema è costato mi sembra quasi un miliardo 800 milioni di euro sta roba saranno è un'altra operazione di propaganda di così di pura immagine di dare un'immagine di pulizia etnica diciamo per il suo elettorato però capito una nave militare messa in moto per portare 16 migranti 16 nel suo centro lager albanese contenti no finalmente in italia c'è la pace siamo tutti contenti non c'è più criminalità se sta bene capito grazie a questi 16 disperati portati in Albania prima erano gli albanesi che venivano qua e il nemico era l'Albania ricordiamoci eh oggi sono emigranti dall'Africa e li porti in Albania che ormai è nostro nostro alleato diciamo anche se non sta nell'Unione Europea poi vabbè parliamo di politica interna perché c'è stato l'insegnamento del nuovo ministro della cultura Giulie simpatico come un chiodo appuntito dentro una scarpa mentre fai la maratona e mamma mia a parte che sarà asfaltato da Renzi che voglio dire a parte che non dovrebbe esistere lì è un fantasma perché lui ha lasciato la politica nel 2016 ufficialmente dopo il referendum che era 2016 cioè lui ha lasciato la politica però c'è e diciamo come spirito come puro spirito spacca al culo come politico no specialmente a uno che non ha mai fatto politica no che non è un vero politico è messo là gli tremavano le mani non riusciva a rispondere impacciato affatto sto discorso scritto penso da fusaro perché penso che ormai abbia come autore di discorsi come ghostwriter abbia assunto fusaro perché sennò non si spiega questo pippone super cazzolaro veramente imbarazzante è diventato un meme leggiamone un passaggio allora vediamo un po' a specifichiamo che nel frattempo si è laureato quindi ma non si può più di che non è laureato laureato è laureato il movimento delle cose è così vorticoso improvviso così radicale nelle sue implicazioni e applicazioni che persino il sistema dei processi cognitivi delle persone delle ultime generazioni ha cominciato a mutare con esso spiega giuli di fronte a questo cambiamento di paradigma la quarta rivoluzione epocale della storia delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale il rischio che si corre è duplice speculare l'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli dell'ipertecnologizzazione e per converso l'apocalittismo difensivo che rimpiange un'immagine del mondo trascorsa impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica al futuro ora ragazzi non ne mettono niente questo è il discorso che ha fatto giuli alla camera poi ironizzando dicendo no no cambierò semplificherò il mio loquio per venire incontro alle capacità cognitive di renzi ma sta roba avrà pure un senso ma è di un barocchismo di una ridondanza di una cosa è imbarazzante è fusarismo questo questo è pure fusarismo specialmente qua il riscontro del fusarismo specialmente nella parte l'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli dell'ipertecnologizzazione tecnologizzazione e l'apocalittismo difensivo che rimpiange un'immagine del mondo apocalittismo difensivo è puro è puro fusarismo manca solo che ne so super turbo capitalismo atomistico capito sta roba qua dittatura sanitaria e stiamo là è fusarismo un'ideologia della crisi che si percepisce come processo della tecnica al futuro ideologia della crisi pure fusaro comunque bocchi la scritti si scorsi però vedere questo qui che gli trema la mano mentre cerca di rispondere renzi che lo che lo incazza chi dice ma che cazzo stai a di ma parla di qualcosa dice perché avete messo avete messo in questo adesso mi ricordo in questo ruolo uno che non c'è tra un cazzo con la cultura e lui ha risposto quanta supercazzola cioè da uno che faceva ride sembrava veramente una commedia l'italiana come come già come cazzo si chiamava già dimenticato san giuliano abbiamo questo che fa tutto il professorone proprio che se da se dalle aria narcisista mamma mia imbarazzante e poi visto quello che c'ha a bettato agio fascio sul petto poi queste cose bucoliche sti video di lui che sono alpifero mamma mia per un altro personaggio folcloristico va dato sto governo è tutto folcloristico ma a proposito di retorica e di discorsi ridicoli imbarazzanti no è uscito ultimamente un editoriale di massimo gianilli che non mi sembrava a me sembrava una persona vi giuro intelligente mi sembrava pragmatico boh forse non so abbastanza informato cioè non mi sembrava un cazzaro ha fatto questo questo editoriale che sembra una roba dei gramellini però ancora più prolisso e più retorico l'inganno dello smart working che priva il lavoro della sua dimensione sociale e ci rende più soli pure questo è fuselismo no non nella forma ma nel contenuto pure una pompa nella forma ma perché tutti si stanno a fuselizzare perché devono essere stronzate questo è un altro articolo da ricco annoiato retorico da ricco annoiato perché sti ricchi che ormai hanno ruoli importanti fanno i talk show hanno i sordi fanno eh amano romanticizzare la vita dei poracci cioè il ricco spesso ama romanticizzare la vita del povero per sentirsi in pace con la coscienza e avere un alibi no perché ma che beato te beato te che poi è na come fantozzi ogni mattina al lavoro col tram ma statene contento ma non ti lamentare quello è bellissimo vuomette e tutto questo editoriale è una celebrazione della vita dei fantozzi anche lui poi mette pure il ridicolo è un certo punto ironizza su si si timbra il cartellino di fantozzi alla memoria però vuomette le idee davanti alla manchetta del caffè forse ha visto troppo troppe puntate di camera caffè alzasse le sei di mattina al freddo però che bello la sfida a soffrire tutte se sono state no quando la gente è ben contenta resta a casa in smart working che poi si chiama smart working nel mondo si chiama remote working no che vuol dire smart work solo in italia noi in italia cambiamo tutte le parole significati comunque siccome l'unico vero risultato positivo della pandemia l'unica cosa positiva della pandemia strascico come lo vogliamo chiamare è stato proprio smart working il remote work insomma il lavoro da casa c'è una cosa che già si poteva applicare prima però non l'applicavano perché tu devi stare lì sotto l'occhio del padrone sfrutta che te controlla poi magari fa incazzo a casa lavori di più produciti più prodotti installati s sottoposto a capito asta sa tortura dei mezzi poi inquina incazzate perde tre giù tre quarti della giornata in mezzo al traffico quando poi lo potevi già fare da casa e la pandemia ha dimostrato che già si poteva fare quindi l'hanno mantenuta tutti contenti no dice cazzo respiro sto a casa mia non devo via i mezzi non devo uscire al freddo no quindi però arriva arriva gennini dice no e no ragazzi ma così si perde tutta la bellezza del lavoro che bellezza al lavoro che fa che cosa fantastica stare all'aria aperta socializzare socializzare siamo più soli ma tu sarai solo c'è se uno per trovare amici deve andare a lavorare io non mi sentito un uomo che mi sento solo voglio andare a lavorare vai al bar vai in discoteca vai vai sui social oggi non c'è bisogno di socializzare è una retorica fantoziana cioè lui nella sua mente sei solo a casa disperato alienato perché 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 sei perché sei solo invece in fabbrica quanto stanno bene quelli che scogliono i pomitori a 3 euro all'ora madonna cara fantastico il caporalato madonna che meravigliosa occasione di di socialità quelli stanno benissimo cazzo ovviamente a casa da solo con un coso con un portatile mentre smuovi i capitali fai miliardi fa il grafico no che tristezza meglio fare nove ore di di fabbrica no meglio fare nove ore d'ufficio 15 ore di di abbracciante questa è l'idea di evidentemente di massimo giannini che è stato molto contestato è stato preso per culo giustamente io per primo e ha scritto sta boomerata pensando di essere boh originale è veramente una boomerata pure questa imbarazzante no perché dice io odio lo smart working che cazzo mi frega non lo fa allora se non se lo vuoti però doveva dire la sua no doveva vedere che lui è più 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 profondo più intelligente tanto che frega mica fa lui la vita dell'impiegato e tutta la gente dice no io sto sto meglio prodotto di più ma vaffanculo ma chi ti sa in culo però allora leggiamo un passaggio vabbè questo passaggio interessante dice vabbè certo che da casa per pare tutto più comodo pare lavori in pigiama già sta cosa che sfigato pelandrone lavori in pigiama si lavori in pigiama va bene e mentre discuti il budget risorseggi la tisana nelle pause giochi col pupo o porti a spasso il cane che schifo certo che ti vedi l'inferno metropolitano del traffico e il logorio fantoziano del badge e risparmi il piano di benzina e il tran tran della piadina e voglio dire inquini pure meno ma vabbè ma ci sono abitudini che non hanno prezzo uscire presto nelle albe fredde l'inferno bellissimo mamma mia mamma è pistola la tempia c'esco guardare negli occhi i colleghi compreso quelli compreso quello che detesti che culo cioè prete fantozzi trovare le idee migliori mentre discuti in corridoio chiacchiere nell'ascensore cazzeggi davanti la macchietta caffè c'è un articolo inutile già questo ha sprecato pixel questa roba c'è una dimensione sociale del lavoro che nessun device ti potrà mai restituire restituire ma chi ha detto che la gente vuole la socialità nel lavoro la sua ritorno cioè queste parte dal falso assioma che la gente voglia lavorare cioè si parte da concetto arbitrario che la gente voglia realizzarsi il lavoro e lavori e lavori volentieri ma se c'è gente che invece preferirebbe non lavorare per niente se permetti dice un compromesso è lavorare da casa sto meglio sto peccazzi meglio lavoro uguale tanto non c'ho voglia di farlo uguale qui invece si fa finta che tutti vogliono lavorare tutti si realizzano lavoro quando si sa benissimo che solo pochi fortunati eletti fanno lavoro che amano per le ore giuste gli altri lo fanno contro voglia quindi che cazzo voi chi ha detto che uno debba trovare un piacere nel lavoro tanto il piacere non lo trova ecco facendolo da casa trova questa questo obbligo più sopportabile perché gli devi rompere i coglioni tanto non è che lui cambierà la situazione perché ormai hanno capito che il che lavoro smart working funziona conviene a tutti e quindi rimarrà così però capito c'è voluto la pandemia per capire una cosa ovvia allora significa prima che stavano a pia per culo ma cambiando argomento però rimanendo sempre un po sul tema alienazione distopia se vogliamo no socialità ecco socialità è il tema comune ho scoperto una cosa fantastica movimento femminista sul coreano che si chiama movimento delle quattro b che sarebbero i quattro no ovvero no no matrimonio no sesso no figli no pompini non lo so comunque quattro no alle attività eterosessuali capito quattro no inerenti alle relazioni eterosessuali donne che rifiutano completamente gli uomini cioè donne che avendo subito oppressione da parte degli uomini della società patriarcale sul coreana pensa a quella nord coreana perché la nord coreana è pure la distopia sul coreana è una merda pensa nord coreana sul coreana queste donne ecco per sottrarsi a questi abusi hanno deciso di radicalizzarsi e di dire no radicalmente a i rapporti con il maschio capito si chiama 4b e chi ne fa parte pensa che l'unico modo per sottrarsi ad abusi e discriminazione sia evitare sesso eterosessuale matrimoni e figli mi sembra una cosa ottima io lo consiglio a tutte cioè vedendo com'era la situazione anche in italia e dico cazzo questo è un esempio estremo però del che potrebbe essere ispirazione vaffanculo dico no chiudo e e magari si danno a adorotismo a sesso bo lesbo che asseconderanno qualche fantasia bisessuale lesbica come siccome lì le donne so oppresse sono vittima di revenge porn spiate maschilismo imperante non ne vanno più vanno detto vaffanculo noi ci chiudiamo e formiamo sto movimento 4b ecco qua rifiuto matrimonio eterosessuale avere figli relazioni romantiche con gli uomini e rapporti suoni con loro cioè tutto capito spesso le donne che vi aderiscono si rasano i capelli rifiutano di truccarsi indossano pantaloni larghi felpe o cappelli pare un po' una setta però capisco il senso per protestare contro i canoni estetici imposti tra le tradizioni patriarcali e l'elemento in comune tra le militanti è quello di escludere il più possibile gli uomini dalla loro vita a volte rifiutandosi persino di avere amici maschi c'è quello che molti idioti definirebbero misandria ma c'è una grossa differenza c'è anche qualche documentario o qualche video su youtube su questo argomento al momento non è chiaro di quanto erano sia composto il movimento 4b un paese di circa 53 mila abitanti secondo alcune fonti ne raduna almeno 4 mila sono alcune 50 mila comunque una minoranza comunque di cui tenere conto però dicevo c'è una differenza fondamentale tra questa tra i grete misandria e la misoginia c'è quando gli uomini chiudono con le donne è perché non gliela danno perché non riescono a scopare tutto ciò che vuole che vorrebbero e sicuro si radicalizzano odiano gli uomini e le usciate odiano le donne e le molestano le uccidono le odiano eccole perseguitano questo mentre quando le donne perseguitate oppresse dagli uomini diventano tra le grete misandriche si radicalizzano cosa fanno si chiudono in se stessi stanno a casa giocano a dama e non scopano più proprio il contrario loro utilizzano il sesso come volendo una forma di protesta una forma di ricatto verso il maschio quindi quando il maschio siccome non scopa diventa misogino e odia le donne la donna siccome è odiata siccome è oppressa si rifiuta di scopare capito io degli uomini ma non fa male a nessuno quindi paragonare le due cose è ridicolo perché una forma di se vogliamo odio in difesa difensivo di reazione che non fa male a nessuno tu potresti estremista stupido vabbè ma saranno cazzi loro se non danno non vuole scopare oh non è vero non è possibile sì è possibile ci sono i frati quelli che fanno le remiti le suore ci sarà gente che non scopa no no perché i maschi non accettano sta cosa ma io la cosa che mi ha veramente lasciato basito è che leggendo un articolo che mi hanno linkato su questo argomento un post su instagram di frida conoscete no frida ecco ho letto sotto centinaia e centinaia di commenti di donne italiane che dicono cazzo anch'io aderisco a questa iniziativa inconsapevolmente cioè anch'io da anni mi sono chiusa a me stessa non voglio rapporti con uomini sono da sola soltanto bere uso il dildo capito quindi sono tante le donne che che anche qui hanno adottato questa strategia difensiva sono esasperate e non hanno rapporti con uomini non fanno sesso non si fidanzano non hanno figli quello si sapeva non hanno figli comunque ecco magari o magari fanno sesso ma non si non si impegnano non hanno un partner stabile non vogliono formare la famiglia si ribellano a questi canoni patriarcali capito non fanno figli vaffanculo fanno bene c'è c'è nostra ragione poi leggendo quei commenti si dice qualche maschio che protesta però le donne dice no io io lo penso così soltanto bene quindi non è vero che una cosa estremista solo della sud corea della corea al sud perché pure qui ci stanno solo che non se ne parla però c'è tutto un substrato di donne che hanno fatto questa scelta radicale magari non in modo così ufficiale aderendo a un movimento dicendosi capito io appartengo al femminismo così proprio ma lo fanno in modo libero individuale però lì sotto come se tu fa leggi quei commenti tante dicono che i motivi per cui lo fanno dice dopo tante delusioni dopo tante esperienze negative mi sono rotta al cazzo e non voglio più che facco con gli uomini ma io non mi si faccio certo di a tu lo fai perché sei simp perché quelli cerchi di scopare perché tu vuoi far femminista per scopare adesso di ds casta c'è ma pure vanno esorto alla castità lo faccio per scopare ma secondo te se sei così ossessionato ma va a puttane ma se tu non perdi la virginità non è colpa mia ripeto io non posso fare altro che dire a queste o non scopate chiudete con gli uomini diventate lesbiche non è possibile però io consiglio sempre visto che così una merda la società è usa il vibratore usa il dildo che te posso dire di più c'è un consiglio poi certo se poi pure fa che cazzo le pare ovviamente atto rischio e pericolo nel senso c'è una estremizzazione è per far capire un concetto però vedo che molte senza io glielo abbia detto già lo fanno non può essere un caso c'è un problema tant'è che poi se lamentano che le donne non fanno figli chissà perché perché è normale più le donne acquisiscono consapevolezza e si emancipano e meno sottostanno ai canoni patriarcali se ne sbattono il cazzo di fare donne perché se tutte la mette in città pure oggi come oggi è sempre rischio è un rischio per te salute sociale economico è così sia beh i padri separati non possono dei figli però la donna rischia di morì departo uccisa dal partner gli si aggrava al cancro veduto quindi la gravidanza pure che la nascetta già già quello quello è proprio la punta dell'iceberg no vanno che non fanno figli poi sono quelle che proprio non hanno più rapporti con gli uomini che odiano gli uomini ma non perché l'uomo non gli dà il cazzo come fanno le donne come fanno gli uomini ma perché l'uomo le opprime un po' diverso e a proposito di donne oppresse torniamo a parlare del caso merini immenso perché ci sono nuove prove contro di lui nel caso di abusi sessuali e la ex esme bianco una delle vittime no che l'ha denunciato proprio l'ha denunciato proprio alla polizia con cui ufficialmente ci sono ancora le indagini non si sa se si andrà al processo ma però sono emersi sono emersi no emersi nuove prove e per questo caso di abusi sessuali stupro e tortura ricordiamoci non robetta non catcalling e lei si sta lamentando sta parlando pubblicamente siamo al suo avvocato dicendo che insomma sono passati quattro anni è ora che warner entra in aula di giustizia ma perché cazzo archiaglia argabbio pd di argabbio questo non gli fanno niente come mai eh no perché non trovano non trovano abbastanza prove ma c'è lui stesso che ha detto che che ama torturare le donne per portarle alla sua insomma per soggiogarle e poi trombarsele e insomma la procura di los angeles sta ancora esaminando non si sa ancora bene quali sono queste prove eh l'avvocato non si è sbilanciato però ha parlato di prove insomma importanti vedi ora però sarebbero emerse nuove prove che la procura di los angeles con il suo capo george gascon starebbe passando al vaglio in questo momento gli investigatori starebbero incontrando gli accusatori per decidere come muoversi se andare verso il processo verso l'archiviazione cioè raga se questo riesce a farsi archivia tutto con 12 15 accusatrici è una vergogna capito e se smè bianco dice ma che cazzo stata fa sarei stasera se finisse in galera perché lì merita di stare l'ultima cosa che voglio è vederlo affrontare una giuria e farla franca deve esserci un momento in cui si prende a in cui si prende una decisione consapevole per me quasi 4 anni sono ben di più di un tempo ragionevole insomma giustamente questa dice ma io non cambio versione e nel famoso documentario di cui parlai menson unmasked ci sono delle mail dei messaggi che lei si è scambiata con eva rachel wood in cui dice io non aspetta nera lei che cazzo sto di lei lei continua una che insomma ha patteggiato ha rinunciato a la denuncia adesso meglio di ashley walter se non mi ricordo qual era un'altra delle accusatrici ha detto dice dopo aver visto il trattamento la cogna subita da amber earth del processo con johnny depp dice io me ne tiro fuori cioè quindi queste qua con tutto l'odio che subiscono alcune continuano a a ribadire la loro storia molti però non ce la fanno a tollerare questo trattamento non ce la fanno a sopportare tutto l'odio che ricevono dalla setta di menson che non è quella di charles menson ma sono i fan di merlin menson pazzi scatenati tutta la gente che le odia vittime delle cose varie minacce varie e molte come lui è ben felice che sia si ritirano e dicono no no rinuncio ritiro la denuncia capito però qualcuno è rimasta di mezzo ci sono le lezioni del district attorney della contea di los angeles a cui fanno capo le indagini l'attuale appunto george gascon gascon che afferma che il suo ufficio sta valutando nuove prove bianca bianco ha definito disgustoso il fatto gascon l'abbia ignorata e sia schierata dalla parte dello sfidante e sia schierata dalla parte dello sfidante nathan hutchman è apparsa al suo fianco fuori dal palazzo di giustizia di los angeles in occasione della conferenza stampa mentre aspettavo una decisione ho ricevuto minacce di morte rivolte a me alla mia famiglia i miei amici ora ma lì ma sono tornato in tour e verrà anche a milano se c'è già stato e la prima canzone che ha suonato dopo quasi quattro anni è stata we know where you fucking live capito sappiamo dove cazzo vivi una velata minaccia a lei e a tutte le donne che lo hanno denunciato probabilmente insomma è un po difficile non pensare al fatto che casualmente quelli bianchi non vanno in galera o archiella in galera ripeto pd di in galera si hanno fatto anche cose più gravi c'è una mole d'accusa più grossa però insomma bil cosmi andato in galera beh weinstein andato in galera poi uscito tanto è uscito pure il bil cosmi merlin manson con tutte queste accuse non succede in cazzo e non solo vabbè quello poi di vabbè la legge funziona così le indagini però quello che stupisce proprio la il parere della gente perché la gente comune di cui però fanno parte anche i giurati di queste questi processi non fatica ad accettare per esempio che weinstein sia colpevole credere alle vittime weinstein o dei pdd perché io ho pensato sta cosa perché pdd come weinstein più che un artista è un cazzo di business man è un produttore più famoso come produttore dalle scout che come artista quindi non c'hanno una vera fan base capito come merlin manson c'ha e soprattutto ha una un culto un vero culto di gente fanatica che lo difende in più non c'hanno quest'aura da da genio quest'aura artistica che che li protegge capito perché l'artista associato nell'immaginario comune alla bellezza alla creatività la purezza no mentre il business è associato a cosa alla corruzione alla perversione a allo sfruttamento quindi qua quando ti dicono weinstein che poi pare un orco ha stuprato c'è tu ci credi anche se pure lì c'è però non capito non ti costa nulla rinunciare a weinstein perché uno che metteva i sordi pdd capirai già era odiato un altro che ha sfruttato il talento di questo questo e quest'altro pdd ci credi quando ti dicono merlin manson è nome rimesso grande artista o fermo ha detto cose importanti si è schierato contro il bigottismo americano ha fatto questo ha fatto quello voi ce l'avete con lui perché lui è controverso perché lo trasgressivo capito che mi spesi uguale artista l'arte te mette a riparo dalle accuse il business no anzi il business è la prova che tu sei una merda che fai soldi capito che sei un paraculo un sud lo mette l'artista è puro e questa è la migliore giustificazione è la migliore copertura per chi veramente vuole compiere abusi passare per farla franca crearsi un personaggio sopra le righe come merlin manson e ecco ancora la però lui è bianco col cerone e ancora non è manco stato processato quell'altri se la sono vista più blu peggio ecco adesso nel dettaglio novità su archelli accusato di molestie dalla figlia abusato di me quando aveva otto anni non mi stupisce no non mi stupisce riguardo riassermi svegliata mentre lui mi toccava in quel momento non sapeva cosa fare ha fatto vita di dormire amo qualcuno dirà perché lo dici dopo vent'anni trent'anni quanto cazzo già qui probabilmente nessuno lo dirà no perché ormai archelli tutti sanno che quello che è quello che ha fatto e sta già in galera capito chiaramente la famiglia l'avvocato rispingere accusi tanto vabbè poi pd spuntano ecco vabbè altra gente ormai il 78 persone a settimana lo denunciano per per stupro e violenza la novità sono le accuse odio novità relativamente le accuse a kenny west altro personaggio mamma mia orrendo allora dopo il caso bar daddy che ancora lo chiamano bar daddy ecco i racconti delle violenze di kenny west la storia di loren pisciotta drogata violentata e offerta agli amici questo è kenny west è quello che fa che faceva i spettacoli cristiani la battesimo in cui invece faceva parte anche merlin manson uno spettacolo inquietante tutti questi bianco adesso non mi ricordo che che il concerto era vabbè l'ex assistente doveva essere disponibile h24 e sette giorni su sette doveva chiedere il permesso per andare al bagno o fare la doccia i racconti delle violenze in 88 pagine di denuncia la denuncia per prevenza sessore da parte dell'ex assistente di kenny west in realtà l'ha ricevuta ben prima che scoppiasse lo scandalo pd di bla 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 insomma le donne offerte come regalo agli amici quindi qui ci sarà pure traffico di esseri umani la perversione di kenny voglio fottere tua madre nella denuncia che si sostiene che avesse avuto una bizzarra fantasia quella di voler fare sesso con le mari delle vittime sessuali mamma mia voglio fottere tua madre prima che se ne vada c'è proprio un delirio di onnipotenza secondo quanto si legge nei documenti infatti la vera natura di kenny west sarebbe predatori aggressiva compulsiva volgare perversa e spaventosamente calcolatrice praticamente uguale a a pdd e america in mezzo sono stati tutti uguali e queste questi atti ignobili abominevoli avvenivano anche proprio dura durante i partiti pdd vedi quella sera durante un party di pdd che ne questa avrebbe imposto la regola del bere a chi voleva partecipare alla festa chi non beveva non era ben accetto così lì ti droga direttamente dopo qualche sorso si legge nella ricostruzione dell'avvocato dell'accusa la mia cliente comincia a sentirsi sentirsi disorientata cominciò a scivolare in uno stato di forte alterazione sentivo meno controllo sentiva meno controllo del suo corpo e della sua parola ed è per questo che i ricordi di canote delle sfuggono vabbè niente di nuovo insomma tutta una bella combriccola va adesso per esempio per quanto riguarda l'italia è uscita questa notizia chiara caselli attrice che parla delle sue esperienze sui vari set per quanto riguarda anche insomma gli abusi sessuali eccetera e parla tra le altre cose vabbè di antonioni che era morboso chiano rives che era come già si sapeva rispettoso e insomma ed empatico no che l'ha fatto sentire a suo agio l'unico vedi ma dice una cosa che ha fatto stracciare il naso a molti che l'esperienza con francesco nuti è stata un incubo capito che invece passare addirittura la voglia di recitare dice che non ha sempre avuto voglia di fare l'attrice la fiducia la riacquistai dopo l'incontro con l'iliana cavani avevo persa durante l'occhio pinocchio di francesco nuti il film che decretò alla fine artistica economica di purtroppo di francesco nuti opera mal riuscita che fu un flop e insomma quello quello peggiorno il suo stato di salute diciamo psicofisico un'esperienza devastante capito dico solo oggi dico solo che oggi in un mondo in cui la mentalità rispetto agli abusi è profondamente diversa nuti avrebbe avuto una denuncia avevo 26 anni era giovane lui non c'è più e non voglio aggiungere altro poi sull'incontro con weinstein dice che lui non ci prova vabbè insomma poi parla di altre cose però ecco questa cosa che ha toccato un mito come nuti ha fatto storci il naso a molti come sempre come se permessa questa di toccare i nuti che è pure morto male ecco ora io a questa cosa ci credo al 100 per cento primo perché tendo a credere alle attrici alle donne in genere in genere che denunciano perché conosco il sistema in cui vivo quello cinematografico particolarmente notoriamente maschilista e tossico non mi stupisce il cinema dal mito in poi è venuto fuori il vaso di pandora ma già lo immaginavo non credo ai complotti alle donne che vogliono farsi notare accusando gente a caso sì sono una piccola parte di qualche psicopatica che lo fa no le false denunce sono pochissime e le vere denunce sono una piccola percentuale di tutte di tutti gli abusi che avvengono quindi sappiamo benissimo che statisticamente è molto probabile che quando una donna denuncia l'abuso sia avvenuto ecco detto questo appunto ci credo perché parliamo di cinema e ci credo soprattutto perché pur da fan di francesco nuti io i suoi film li ho adorati lui l'ho trovato lo trovo un genio però conosco il personaggio e è molto verosimile questo racconto in quanto lui stesso disse in varie interviste che lui aveva iniziato a fare il cinema per le donne cioè quello era il suo gol la sua fissa piacere alle donne avere le donne infatti ogni suo film poi corteggia una donna diversa e dice anche nel documentario famoso mi sembra quello la francesco nuti che vengo da lontano che per lui avere una donna collaborare con una donna sul set significa poterla corteggiare cioè lui lo diceva all'epoca si poteva dire una cosa del genere cioè che per lui la vita e il cinema erano tutt'uno cioè lì dice io quando prendo un'attrice è perché mi piace perché posso portarla a cena posso corteggiarla cioè per lui infatti poi si mise con clarissa bart che poi lo lasciò per truisi ma clarissa bart aveva recitato nel suo film più famoso caruso pascoschi non so se già stavano insieme se erano conosciuti lì comunque comunque capito non era novità oltre al fatto che il suo cinema è impregnato di una certa misoginia basta avere donne con le cose ci sono scena agghiaccianti che da horror quella incatenata caro bouquet incatenata cioè con quel tono così surreale però comunque lui caruso pascoschi che fa fast talking insomma cinema che fa riderissimo dark dark humor quello che ti pare surreale slapstick però se nota una certa ossessione per la figura femminile no una certa misoginia un certo maschilismo anche mascherato da guasconeria toscana però c'è in più metteteci che quel fin quel film occhio pinocchio nuti era fortemente alcolista figurati se l'alcolismo poteva poteva non esacerbare questo aspetto un po tossico e già era c'è capito l'alcolismo è noto quindi tutti questi fattori fanno sì che questa accusa per me è credibilissima che poi non è che dico che l'ha stuprata però evidentemente ci ha provato in modo pesante ha fatto delle battute all'ammolestare l'ha definito un incubo l'ha definito vediamo un po un'esperienza devastante c'è roba pesante eh voi dicono come ti permetti questa cercano d'orità perché lo dici solo adesso a parte come sempre dico uno lo può dire dopo cent'anni ma poi se nuti è morto che vuol dire allora non bisogna di raccontare le proprie esperienze per rispetto alle morti anzi a maggior ragione quello è morto non può manco essere denunciato eh ma lui non si può dipendere non può parlare a parte non poteva parlare manco prima non può essere cinici però da mo che stava messo male allora però questo non è che può ammettere a riparo da qualsiasi accusa se uno c'è una cosa da raccontarlo la racconta è la sua vita no sempre con l'indice puntato verso la donna che denuncia perché siccome nuti mi piace tanto bravissimo attore romantico comico allora non può essere uno che ha molestato una donna sul set e io questo fenomeno ho scoperto che c'è pure un nome che in italiano non si usa molto però l'ho scoperto su wikipedia inglese parasocial interaction cioè interazioni parasociali cioè finte finti rapporti sociali di amicizia che la gente intrattiene con personaggi del mondo dello spettacolo che non conosce capito quindi a forza la gente pubblico a forza di fruire programmi tv film canzoni si si convince di avere un rapporto vero diretto con una persona reale mentre non ce l'ha mentre sta semplicemente idealizzando qualcuno che non ha mai visto mai conosciuto e quindi questo porta poi a difendere la sparatratta gente di cui non sanno nulla del privato dell'aspetto privato ma che su cui proiettano tutte le loro speranze di fan capito è appunto una idealizzazione che funzionava come dicevo prima sugli artisti come merly manson come che mi spesi come nuti molto banalmente ma non funziona sul sui nomi di affari sui produttori su gente dell'ambiente addetti ai lavori che sono visti semplicemente come macchine da soldi per cui perché dovresti idealizzare uno che fa soldi anzi quello è il male multinazionali case produzione discografici quelli sono il male di gente che passa sul guadagno l'artista è puro io lo idealizzo e quando me l'accusano di qualcosa è come se accusassero me io mi sento preso in causa capito lo sento parte della mia famiglia come un mio amico e ci ho investito troppo per metterlo in discussione perché dovrei mettere in discussione una parte di me quindi preferisco attaccare la vittima e rimanendo un po su questo filone è stato interessante scoprire che c'è una setta nuova in italia governata da un santone molto inquietante che si chiama accadir saltino di migiano in provincia di lecce se non sbaglio e questo tizio mai sta su tutte le tv to intervistato mentre sbrocca sbraita si definisce l'eletto uno dei 75 mila eletti figlio di gesù probabilmente questo qui in soldoni c'è non c'è voglia da ora aperto una pagina instagram complottara una pagina facebook durante il covite perché durante il covite che so fiorite tutte queste teorie ciarlatani cialtroni complottisti santoni guru no è lì che la gente disperata pur di non accettare la verità si attaccava a questi questi hanno cominciato a proliferare e questo qui da lì è partito e abbiamo fondato una vera setta di ispirazione cristiana e dentro sta casa ospita gente mentalmente un po debole che si affida a lui plagiata palesemente però ora sono solo due due ragazzi mi sembra due tre no me sa due le famiglie denunciano plagio che mi sa che non c'è manco più non è manco più reato boh adesso non mi ricordo comunque hanno denunciato le autorità insomma perché ritengono questi questi i loro figli siano in pericolo che questo li abbia plagiati gli sfrutti per fare elemosine e cose varie poi rituali di purificazione digiuni insomma questo qui è veramente si considera vedi il sesto angelo dell'apocalisse urla sbraita se tu lo attacchi è veramente inquietante poi sono tutti uguali capelli un po lunghi unti barba occhiali pare un po la versione la versione francescana di kit raniere raniere come cazzo si dice raniere quello di nexium sono tutti uguali questi e lui ti dice che segue la vera via del cristo bla 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 però a base come dicevo prima è uno che non c'è la voglia di lavorare l'ha pure fatto capì e 17 dico io mondo una setta così la gente lavora per me no ma mio bevo a sbafo quel poco scopo pure che tanto la fine del fine è sempre quello il potere e sfrutto dei poveri disgraziati e infatti ecco la comunità di cadir e fin da sotto la lente di ingrandimento a seguito di diverse denunce tra le accuse più gravi figurano quelle di manipolazione psicologica violenza sessuale e non può mancare ma la violenza sessuale chiaramente separa proprio una setta da manuale ragazzi separa uomini insomma separati dalle famiglie capito plagiati rapporti sessuali adesso non mi ricordo se tra loro proibiti adesso non mi ricordo bene comunque con delle regole ferre poi digiuni chiaramente per rendere le persone più vulnerabili più deboli quindi più malleabili al suo potere alcuni ex seguaci hanno raccontato di essere stati sottoposti a riti di iniziazione estremi e di aver subito pressioni psicologiche per compiere atti contrari alla loro volontà ovvio l'utilizzo che lo fai per il signore per la purificazione sempre si è stronzate una ragazza staravista nuda per girare per le strade del paese per purificarsi perché come al solito gli vestiti sono satana dio ci ha fatto nudi tutte si è stronzate su tutte cazzate che questi usano per per renderti più più vulnerabile capito per per farti per levarti le due difese le tue inibizioni in modo che loro ti possono entrare dentro in tutti i sensi poi lui tv si è messo pure a batti beccacco i preti perché la chiesa è corrotta mentre lui serve la via del cristo quella vera quando parla mi fa veramente paura soddizione poi alto macro macro costi occhi da matto poi urla è veramente un invasato non so quanto sia sicuramente consapevole di quello che sta facendo e subdolo però mi pare veramente forte fa veramente fanatico veramente che ci crede che forse è veramente psicolabile non lo so è sempre a proposito di sette e religioni varie ci sono dei nuovi sviluppi sulla la madonna di televignano gisella cardia probabilmente hanno fatto degli accertamenti su queste statuette che piangevano sangue no adesso lei è al processo e hanno scoperto cioè dicono se non so quale fonte ho letto che il sangue è sangue ma è sangue di gisella capito al suo che di mo qualcuno dirà cazzo vedi è la prova che lei non solo parla con la madonna ma lei è la madonna no comunque per dovere di cronaca ho sbagliato ancora processo ma sono stati semplicemente lei e il marito interrogati perché sono appunto accusati di truffa quindi sono stati ascoltati dal pm della procura di città civita vecchia nell'inchiesta per la truffa gravata sulle donazioni rispetto alla vicenda della madonna quindi mostrano indagando e sesto sangue veramente è suo è a quel punto la truffa si configura no che terrazza spaccia sangue della madonna per sangue suo o veramente dicono che lei è la madonna ma se sarebbe un cortocircuito oppure truffa vedremo poi l'altra sera a legna che stava un servizio molto interessante su sul caso beh sarà scazzi perché una iena che era alessandro sortino è tornato alessandro sortino è andata a intervistare michele misseri è andata a casa sua a dormire a casa sua per vedere come vive per farlo parlare per sentire la sua versione perché sapete che moglie e figlia sono in carcere per l'omicidio di sarascazzi lui che è quello che ha fatto ritrovare il telefono ha fatto ritrovare il cadavere ha detto che la ne ha stuprato il cadavere che l'ha uccisa e lui è libero lui ha scontrato solo pochi anni per occultamento di cadavere ci avrebbe aiutato la moglie e la figlia sabina misseri a ad occultare il cadavere quindi abbiamo la figlia che accusa il padre la moglie che accusa il padre l'altra figlia che accusa il padre lui che è stato accusa capito però per i giudici lui è innocente e l'assassino sono io sono la moglie e la figlia che si dicono innocenti cioè per me sta storia pure vandrebbe rivista perché non sta molto in piedi secondo me un po' come nel caso le perugia la procura ha preso quella direzione ha trovato più affascinante questa pista della gelosia di sabina misseri verso la cugina più più piccola più carina e il tra la no per questo l'avrebbe uccisa e la madre poi l'avrebbe l'avrebbe aiutata a far sparire il cadavere e il padre vittima di queste due streghe come sempre no è caduto vittima di queste due manipolatrici e paporello però alla fine hanno capito che è innocente mi sembra un po una stronzata mi sembra molto più probabile l'ipotesi banale della molestia sessuale no in famiglia molto frequente e della conseguente uccisione per paura di una di una rivelazione di questa molestia capito c'è un femminicidio in pratica e lui stesso si dice queste cose no ma lui no lo dice solo per proteggere la figlia boh la figlia a me mi sembra quando si dice innocente si dice credibile cioè mi sembra credibile l'altra figlia dice che il padre già era stato violento già aveva fatto capire di avere atteggiamenti sessuali un po no un po noli verso verso lei stessa certo poi c'è il fioraglio che dice di aver visto cosima serrano insomma sostanzialmente rapire sarà scazzi no però poi ha detto che era un sogno ma perché dovessi raccontare un sogno ai carabinieri pure quella cosa strana lì però io secondo me a sto punto tutti e tre dovrebbero stare dentro no che loro stanno dentro e lui sta fuori quando questo fino a prova contraria è quello che ha fatto scoprire il cadavere dice qui l'ho seppelita io qui invece porto io ho trovato io il telefono poi ha detto che l'ha palpata e che poi la voleva violentare poi ha violentato il cadavere non si è capito poi dice che ha ritrattato perché gli hanno detto dice vogliamo dire lui dice lui racconta che un carabiniere dopo durante l'interoatorio ha detto dice perché non diciamo che che te l'ha portata qua tua figlia sabrina e lui dice che l'hanno mezzo rintontolito rincoglionito e ha detto sta cosa che non voleva di poi la ritrattava però prima cosa ha detto è stata che lui l'ha fatto per motivi sessuali più ricambiata versione varie volte una volta ha detto che lì e li dicono appena è possibile una volta ha detto che siccome non partiva trattore bestemmiava sarà scazzi ha detto zio perché bestemmi lui si è cazzato la strangolata ora quella mi sembra strassata mi sembrava più probabile questa qui della molestia sessuale di un approccio sessuale finito in tragedia e propri mette moglie e figlia o l'hanno aiutato l'hanno coperto oppure proprio per paura che questa rivelasse qualcosa hanno collaborato alla sua uccisione però mi sembra troppo questo garantito questo garantismo questa c'è questo fatto che misteri non venne preso sul serio ormai diventano una macchietta no ho stato io cioè che lui dice cose ghiaccianti abberranti però viene preso così è no ma lo dice ne dice tanto per dire le dice cazzate le dice per coprire la famiglia ma non potrebbe essere questo è veramente il classico zio orco buh ma chiudiamo con una bella notizia trash complottista dall'america sapete che c'è stato l'uragano milton ovviamente hanno messo alle cataclismi climatici un nome maschile solitamente sempre catrina vabbè uragano milton che ha colpito la florida e qui dici e fin fino a qui dice vabbè niente strano no perché siamo pure in pieno periodo elezioni e secondo molti imbasati repubblicani anche una una deputata estremista molti pazzi complottari trumpisti questo reggetevi forte questo uragano non è un fenomeno naturale ma è stato creato a tavolino dai democratici ovvero dal governo per impedire alla florida di votare trump capito per far fuori gli abitanti della florida perché lì è pieno di gente che voterebbe trump tutto un grande complotto per non mandare il salvatore dell'america al potere e non ho parole veramente e su questo io chiuderei e anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata io vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo abbraccio con fulvio venanzini podcast polemico e satirico ma soprattutto polemico seguitemi su spotify recensitemi seguitemi anche su youtube su instagram ci sentiamo martedì prossimo puntuali non troppo grazie ciao